La CIA aveva bisogno di una storia di copertura. Si rivolse a Howard Hughes, un multimiliardario. Costruisci una nave che possa recuperare il sottomarino sovietico con un missile nucleare. Howard Hughes disse, va bene, il sottomarino era a 5.000 metri di profondità. Era una circostanza senza precedenti. Anche solo pensare di intraprendere un'impresa così ambiziosa e di farlo in segreto. Per certi aspetti era più complesso che andare sulla Luna.